Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestro Fiorentina in direzione Firenze. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per le autostrade in A1 in direzione Bologna incidente tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino e code tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello. In direzione Pisa code sul bivio A1-11 provenendo da Roma e da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!